Siamo sul colle San Biagio, ammiriamo il panorama che si vede su Levico, vediamo la chiesa, centro storico, più in alto vediamo il pizzo, avviciniamo la zona lago, la zona lago con le sue spiagge, e sopra vediamo il colle di Tenna con la vigolana, giriamo ancora sempre sulla sommità del colle, e possiamo vedere la chiesetta, eccola qua, che potete ammirare salendo proprio sulla sommità del colle.